Nel frattempo invito la regia a contattare il nostro primo ospite di oggi e sabato, siamo nel fine settimana, periodo appunto della settimana privilegiato per il nostro tempo libero e con l'arrivo delle belle giornate e delle buone temperature è anche consigliato fare delle belle lunghe passeggiate. Noi parleremo di cammino proprio con Paolo Piacentini, presidente onorario di Federtrek, che ci parlerà di un'iniziativa bella e importante dal titolo Missione Parchi, riprendiamoci il cammino. Buongiorno Paolo, ben trovato tra noi. Buongiorno, buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Mi sto spostando perché lì sentivo, ok, no, io sentivo poco a voi e allora mi sto spostando. Hai già messo gli scarponi, hai già messo gli scarponi ai piedi, sei pronto per riprendere il cammino? Sì, sì, ho messo già gli scarponi ai piedi, come vedete. Bene, allora dici dove sei e che cos'è Missione Parchi, riprendiamoci il cammino. Ma in questo momento sono in Umbria, sono qui nel giornale della mia casa, vivo in campagna, quindi è una cosa molto bella. No, Missione Parchi è un viaggio che ho ideato insieme, diciamo, a un mio amico, un naturalista del parco di Monti Sibillini, perché a un certo punto mi sono reso conto, io che ho dedicato la mia vita a camminare, ai cammini, sono stato anche presidente di un parco naturale, che c'è un momento storico in cui noi avremmo bisogno, ce lo dicono anche le normative internazionali, ce lo dice la Costituzione, no? Oggi hanno inserito anche il tema dell'ambiente, la biodiversità, il paesaggio, come un elemento proprio importante, fondamentale della nostra Costituzione. Eppure, purtroppo, nonostante c'è apparentemente un aumento di sensibilità rispetto ai temi ambientali, però poi rispetto invece a quello che è il discorso della tutela della biodiversità, del valore che hanno i parchi e le aree protette, questa cosa sta parlando un po' meno e spesso ci sono dei progetti che sono in contraddizione con lo spirito dei parchi, quindi noi faremo questo viaggio da Fiastra fino a Pescassero, un viaggio bellissimo di 16 giorni, sono delle tappe che possono fare tutti, perché avremo un pulmino che ci seguirà, partiremo il 24 maggio, quella giornata nazionale dei parchi, dell'aree protette, tantimera abbiamo un padrocino anche da Federparchi, da Laigae, anche i parchi, insomma, in qualche modo ci saranno vicini, incontreremo le comunità locali e a volte anche le amministrazioni comunali, perché il nostro è un viaggio di ascolto, cioè vorremmo ascoltare le persone che vivono davvero quotidianamente in quei territori e capire com'è il loro rapporto con la presenza del parco, dell'essere dentro un parco naturale e ragionare per capire anche quali sono le contraddizioni, i problemi, perché spesso questa convivenza continua ad essere un po' difficile e insieme ragionare su come superare magari questi ostacoli, perché, ripetiamo, è importantissimo oggi riscoprire il valore della natura, perché quando parliamo di ambiente spesso, ne parliamo in modo un po' generico, uno si lega all'ambiente con il discorso della crisi climatica, quindi il discorso energetico, il discorso di arrivare a avere produzioni da fonti rinnovabili, però c'è un elemento che spesso sfugge ed è collegato al tema ambientale più generico, che è quello appunto della tutela della biodiversità, questo è un elemento molto importante, ecco queste sono le tappe che abbiamo messo anche in questa bellissima locandina, abbiamo fatto anche una maglietta per il viaggio che indosseremo e invitiamo quindi a partecipare, insomma, ripeto, si può partecipare anche per un giorno o due giorni, l'importante è che ci si auto-organizzi, è possibile anche scrivere alla mail piacentini-cammina-chiocciola-gmail.com per avere delle informazioni. Il viaggio, appunto, come dicevo, poi farà, sarà un po', ci saranno dei resoconti, dei resoconti quotidiani, che io magari scriverò anche su Italia che cambia, per esempio, che ci seguirà un po' da lontano, sarà possibile, se voi siete d'accordo, magari anche rifare un collegamento con voi in cammino sarebbe molto bello, quando siamo sulle creste, sulle montagne. Ecco, però quello che vogliamo fare è più che altro metterci in ascolto, oggi siamo in una società, io su questo l'ho scritto anche su un mio libro, sto scrivendo un altro libro sempre dedicato al camminare, è una società che crea spesso delle contrapposizioni, delle polarizzazioni, quindi, ossia da una parte, ossia dall'altra, e dobbiamo tornare invece ad ascoltarci, ad ascoltare la natura, ascoltare gli altri, e il silenzio è un elemento molto importante dell'ascolto. Camminando il silenzio si apprezza di più, quindi di giorno apprezziamo il silenzio della natura, e la sera in un incontro conviviale, mangeremo insieme, ceneremo insieme alle comunità locali che ci ospiteranno, anche lì in silenzio ascolteremo i problemi che ci rappresenteranno i territori, e poi ne faremo magari un resoconto finale, e noi porteremo quello che noi pensiamo invece debba essere il valore di un parco, di un'area protetta, che ripeto, oggi paradossalmente è più importante di ieri. Dobbiamo spostare un po' l'attenzione, lo dico anche ai più giovani, va benissimo la rivolta che si fa in città rispetto al discorso della crisi climatica, però nel processo della crisi climatica, anche il tema della tutela della biodiversità, la tutela della natura, dobbiamo ricordarci, e poi la natura ci aiuta a rincantarci un po' nel rapporto col mondo, più o meno un mondo troppo disincantato, invece abbiamo bisogno anche di una dimensione spirituale, di una dimensione appunto in cui possiamo tornare ad ascoltare la natura lentamente, entrarci dentro, vivere quei luoghi, come diceva un po' Massimo Cacciari ricordando Francesco, Francesco era un pellegrino particolare, perché? Perché Francesco camminava continuamente, attraversava i luoghi, ma allo stesso tempo se ne prendeva cura, anche se era un abitante momentaneo di quel luogo, però se ne prendeva cura, ecco noi dovremmo imparare ad essere viaggiatori lenti, che nella natura si immergono, nelle comunità si immergono nell'incontro, e da questo incontro scaturisce una cura diciamo più generale, che è una cura dell'altro, anche di sé, perché camminando nella natura c'è un arricchimento spirituale profondo. Grazie Paolo, riconnettiamoci con la natura senza dubbio, perché ecco i tuoi spunti di riflessione sono tutti condivisibilissimi, e lì durante il cammino ecco si concretizzano in un'esperienza viva e vera, quindi invitiamo tutti i nostri telespettatori a seguire il progetto Missione Parchi, riprendiamoci il cammino e senza dubbio ci ritroviamo alla fine, quando ecco a conclusione di questa esperienza magari faremo un resoconto insieme, quindi per ora non mi resta che augurarti e augurarvi buon cammino. Grazie, grazie a voi davvero, ci sentiamo presto, grazie. A prestissimo, allora, allacciamo gli scarponi e iniziamo a camminare, noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, poi ci ritroveremo in studio con la collega Maria Pia Picciafuoco per ritornare a Verona dove il Santo Padre è in mezzo alla gente.